Cause you're everywhere to me And when I close my eyes it's you I see Everything I know that makes me believe I'm not alone PokerStarts.it è la prima poker room in Italia Introduce la possibilità di iscriversi ai tornei già in corso Esattamente come avviene nelle tappe del PokerStarts.it La nuova funzionalità permette di registrarsi ai tornei già in corso Durante le fasi iniziali Il tempo a disposizione dei giocatori per la registrazione tardiva Dipende dalla durata del bui e dall'importanza del torneo Alcuni videogames sembrano essere in grado di aiutare chi di USA a rilassarsi A essere più predisposti a compiere atti gentili verso gli altri Sostenerlo è uno studio condotto da Jody Whittaker e Brad Bushman La nuova ricerca ha studiato le reazioni delle persone in seguito all'uso dei giochi con scenari più tranquilli Grazie a tutti